Io conosco De Luca da moltissimi anni perché sono stato componente a lungo della sua amministrazione a Salerno, oggi sono consigliere regionale, quello che voglio dire è che si sorprendono tutti di questo linguaggio non ipocrita, semplice da parte del Presidente. Non c'è nessun reato nelle cose che dice, nessun scambio di voti, c'è semplicemente una dichiarazione che è un'evidente battuta ma che sancisce semplicemente la necessità di mobilitarsi per un voto e non c'è nessun reato nel chiedere di andare a fare una frittura di pesce a mo' di battuta. Io francamente sorrido rispetto a chi sta strumentalizzando questa situazione, è una strumentalizzazione che fa il paio con quella che c'è stata quando abbiamo fatto le elezioni regionali e un giorno prima del voto della chiusura dei seggi è venuta fuori la storia degli impresentabili. Diciamo che niente di nuovo sotto questo cielo e siamo tutti quanti tranquilli e continuiamo la nostra battaglia elettorale. Non c'è proprio nessun problema, sono cose che fanno francamente sorridere. Per quanto riguarda la riforma costituzionale, Piccarone ha tenuto a sottolineare più volte che rappresenta un volano di sviluppo economico in quanto a sburocratizzazione, semplificazione e snellimento dei tempi per l'emanazione delle leggi. Mancano pochi giorni per il voto referendario del 4 dicembre. Ci sono ancora molti indecise, è importante spiegare le ragioni della riforma, spiegare che non è un voto politico per o contro questo governo che potrà essere espresso nelle sue sedi quando ci saranno le elezioni, è un voto per una riforma che si fa adesso non si farà più e che vede nel nucleo centrale, nel cuore della riforma c'è soprattutto il superamento del bicameralismo paritario, vale a dire, in parole semplici, due camere che fanno la stessa cosa. In Europa questo accade soltanto in Romania, l'Italia deve diventare un paese moderno all'altezza della sfida di questi tempi, quindi la parola d'ordine è semplificare e sburocratizzare. Questo referendum consente di poterlo fare, è importante che i cittadini votino sì e che accorrono tutti quanti e facciano votare tutti sì perché l'Italia ne esce più rafforzata.